Paura per Elisabetta Gregoraci, volata a Dubai insieme al figlio Nathan Falco per trascorrere qualche giorno di relax durante le vacanze di Natale. La condottrice è finita dal medico per un piccolo incidente accaduto vicino a una spiaggia. La Gregoraci ha spiegato lo sfortunato incidente. Mentre provava a farsi scattare una simpatica foto a testa in giù vicino a una palma, l'ex Giffina si è ferita ad una mano alla schiena e al polpaccio. Arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona epifania a tutti voi, ha scritto la Gregoraci su Instagram. Niente ragazzi, volevo fare una cosa carina, una foto per Instagram e praticamente mi sono schiantata contro una palma. Ok, thank you so much doctor.